L'attenzione politica è alle stelle a Corigliano Rossano dove la campagna elettorale è entrata nel vivo. In questa tornata sembra che la corsa al palazzo abbia già i suoi contendenti principali, Flavio Stasi, il sindaco uscente del centro-sinistra, e Pasqualina Straface, nota consigliere regionale del centro-destra. Con tutti gli occhi puntati su di loro, la competizione si prospetta accesa e non mancano i primi strani. Con pagina eterodiretta da Catanzaro e da Cosenza, e che non ha come obiettivo in realtà l'amministrazione comunale, credo che abbia come obiettivo la città. Quello di andare a costruire la nuova città, la nuova città di Corigliano Rossano. Purtroppo in questi anni abbiamo assistito ad un forte allontanamento delle due realtà. Noi vogliamo lavorare verso un'unica identità che è rappresentata da questa comunità, da questo territorio. Ma non è solo la sfida tra Stasi e Straface a tenere banco. Mentre i due candidati principali si preparano a battagliare per la sindacatura, si stanno allestendo le liste per il Consiglio Comunale, con circa 300 aspiranti pronti ad entrare in gioco. E' una vera e propria gara all'ultimo voto. Gli elettori si trovano di fronte ad una scelta difficile. Tra votare per amicizia, per legami familiari o magari per interessi personali, molti si sentono in imbarazzo. La responsabilità di scegliere chi governa la città pesa su ogni singolo elettore. Nel frattempo la macchina elettorale dei due candidati principali è già in azione con l'apertura di comitati elettorali sparsi per tutta la città. La cosa più bella è che la gente si organizza spontaneamente per creare i comitati elettorali. E lo spirito della nostra campagna elettorale ci precede ciò che abbiamo fatto in questi anni. Basta vedere l'entusiasmo e la gente che partecipa. C'è tanta voglia di cambiamento, c'è soprattutto tanta voglia di un riscatto di una città che merita autorevolezza. Grazie.